Ragazzi buonasera a tutti bentornati su Crypto Salad qui Federico è il 19 maggio 2023 bitcoin oggi 26.900 dollari in questo momento ragazzi guardiamo il giornaliero nel dettaglio cosa sta accadendo per bitcoin cosa aspettarsi poi ragazzi guardiamo due altcoin vediamo come si sono evolute dopo che le abbiamo osservate insieme qualche episodio fa concludiamo guardando l'andamento della bitcoin dominance quindi come potrebbero comportarsi le altcoin quindi se vi sembra interessante lasciate un mi piace iscrivetevi al canale cliccate la campanella per le notifiche lasciate i vostri messaggi utilizzate i referral link che trovate in descrizione se volete sostenere il canale ragazzi guardiamo quindi bitcoin sul time frame giornaliero bitcoin contro gli usdt in questo momento bitcoin sta consolidando al di sotto di un livello di resistenza quindi da questo punto di vista dobbiamo aspettarci una continuazione del downtrend fatto salvo che accadano delle violazioni della resistenza e quindi una riconquista della resistenza come supporto quindi per adesso bitcoin dopo aver violato la neckline di supporto di questo testa spalle ribassista sta consolidando al di sotto della neckline vedete che ci siamo spinti al di sopra ma poi siamo stati rigettati molto velocemente quindi sarà importante per bitcoin per invalidare lo scenario bearish riconquistare con delle chiusure il livello dei 27.120 dollari che è costituito dal punto S1 del mese attuale il la parte più alta del CPR del mese di aprile e il target di resistenza numero 2 del mese di di marzo quindi diversa confluenza proprio in zona 27.100 quello è livello da riconquistare per bitcoin quindi per invalidare lo scenario bearish siamo al di sotto del CPR mensile siamo al di sotto del livello S1 quindi in questo momento il target più probabile resta il target di supporto numero 2 del mese a 25.000 e 25.000 dollari praticamente spaccati come dicevamo nell'episodio di ieri diversa confluenza di supporti arriva in zona 25.000 quindi se dovessimo arrivare qui potremmo vedere una interessante reazione se guardiamo poi altri due strumenti che in questo momento confermano il downtrend e pertanto se vogliamo aprire dei long su bitcoin aspettiamo le conferme abbiamo il MACD in questo momento incrociato bearish anche se abbiamo una potenziale divergenza rialzista sull'istogramma del MACD e poi abbiamo il livello dell'RSI sul daily che è al di sotto del livello dei 50 quindi se vediamo la conferma del MACD la riconquista di 27.100 e l'RSI che torna di sopra del livello dei 50 direi che abbiamo tutte le conferme per immaginare che bitcoin sia pronto a spingersi di nuovo verso l'alto ragazzi poi guardiamo invece il settimanale ieri guardavamo diverse medie mobili queste anche sono medie mobili un po' particolari sono William Aligator in questo momento vediamo che il trend dal punto di vista del William Aligator è chiaramente rialzista quindi con quella più veloce quella verde al di sopra delle altre due e quindi in questo momento bitcoin sta provando a mantenere il supporto anche del William Aligator vedete come durante i precedenti uptrend bitcoin dopo aver visto incrociarsi le medie mobili che è andato a ritestare sia quella verde che quella rossa e anche in questo caso quella rossa che dovrebbe rappresentare la lingua dell'alligator se non sbaglio si trova in zona 25.000 dollari quindi anche qui confluenza in questa zona ragazzi poi XRP commentavamo insieme il fatto che a seguito di un prolungato consolidamento all'interno del range e un fake out e un reingresso nel range XRP stesse provando a trasformare la resistenza in supporto per adesso sembra esserci riuscito vedete che c'è stato un chiaro rimbalzo proprio in zona più o meno 40 centesimi che doveva essere precedente resistenza e di conseguenza potenziale supporto quindi bullish novità per XRP guardando invece ragazzi poi Cartesi anche qui commentavamo molto simile ad XRP un livello di supporto prima resistenza vedete questo livello quante volte è stato testato in resistenza e anche qua sembra che Cartesi abbia avuto una reazione in zona 16 barra 17 centesimi quindi trasformando la resistenza in supporto in ultimo ragazzi Bitcoin Dominance anche qui la situazione resta plausibilmente positiva per le altcoin perché sembrerebbe che la Dominance stia per essere rigettata dallo stesso livello di resistenza che l'aveva rigettata direi a partire da maggio 2021 quindi vediamo un po' come si comporterà la Dominance però sembra che per adesso ci sia della resistenza proprio in zona 48 per cento vi ricordo che il trend della Dominance tendenzialmente le altcoin se guardiamo in cicli passati hanno outperformato Bitcoin a seguito dell'alving quindi mai prima se effettivamente dovessimo vedere la resistenza rigettare la Dominance sarebbe un po' una novità perché un altcoin season fatta bene prima dell'alving tendenzialmente non è mai successa quindi fatemi sapere cosa ne pensate a riguardo noi ci vediamo al prossimo episodio ciao